Buonasera da Giovanni Barsotti, è il primo mercoledì sera della stagione 2016-2017 del campionato universitario di calcio a 7. Tutto è pronto per i Redentori contro lo Shakhtar Durex. Io do il mio benvenuto a tutte e due le squadre perché sono due squadre nuove. Allora speriamo che sia una bella partita, le conosceremo insieme. Saluto anche Marco Salfi che anche quest'anno è con noi in coordinamento. Buon calcio a tutti. Fatica ragazzi, rifà l'intervista? Ma scusa, faccio impiegare la palla. Questo l'abbiamo detto che è Simini. Occhio a Simini. Calcia in porta a Simini! Sul fondo di un niente, grande prima palla a gol per il Durex. Occhio a Simini che ha visto un taglio da quella parte. Grande palla per Minerva che fa 1-0. Super palla di Simini, super taglio di Minerva. Si presenta così lo Shakhtar Durex. 1-0. Ecco lo Spina. Uno contro uno. Col tacco va via. Grande giocata di Spina. Calcia in porta a Spina. la palla rimane lì. Risolve tutto Cajola. Minerva mette il turbo. Minerva passa. Fino in fondo Minerva! Che giocatore Minerva! Mamma mia che turbo di Minerva. 2-0. Doppietta del 7. Bella partita della Durex. Finisce qui il primo tempo tra Shakhtar Durex e Redentori. 2-0 per lo Shakhtar. Ha segnato Minerva una doppietta. Super spot. Super spot. La palla è rimasta lì dopo un contrasto brutto aereo. E arriva anche il gol dei Redentori. Ha segnato Antonio Nicolò. Che l'aria aperta. 2-1. C'è stato un brutto contrasto a centrocampo. No a centrocampo, ma su altre quarti. Testa a testa. Alla fine non è successo niente. 2-1. Gara riaperta. Grande sterzata di Simini. Grande apertura di Simini. Ha messo giù Righetti. Grande controlla anche di Righetti in area di rigore. Può scodellarla col sinistro. Salvataggio clamoroso sulla linea però da parte di Pettinaroli. In realtà è Pettinaroli che vede anche la porta. Il suggerimento sinistro violento da parte di Papagni. bloccato comunque con abbastanza serenità da tripicchio. Spira. Alza il pallone. Poi grande giocata. Secondo me è un gioco pericoloso che diventa però 3-1 da parte di Leggeri. Ha alzato un po' troppo la gamba. Forse non in gamba tesa. Forse ha anche testa bassa. Comunque 3-1 dello Shakhtar Durex che allunga di nuovo. Aspetta se te lo dico. Leggeri in area di rigore. Leggeri! E questo se lo mangia invece. Apparecchia e poi lo mangia. Siamo sempre lì al limite. E sbattiamo sulla traversa violentemente. Ci ha provato Seregni. Simini. Grande giocata. Tiene anche il pallone in capo e calcia a traversa. Che giocata di Simini. Col sinistro poi ha preso la traversa. Non è neanche il suo piede. La giocata di Spira. Quindi Leggeri. Gira dall'altra parte. Per Minerva. Di nuovo a 2x2 col portiere. Calcia fuori. Vicinissimo a portarsi a casa il pallone. 45. Simini. Sul fondo. L'arbitro dice che basta così. Vince dello Shakhtar Durex. 4-1 e batte i Redentori. Super spot.